seminiamo i fagioli a specie rampicante per prima cosa prepariamo bastoni laddove la pianta si può arrampicare io ho usato semplici canne le ho sotterrate 20 centimetri ed ad una distanza di 30 centimetri l'una dall'altra mettiamo la quantità di fagioli che vogliamo seminare in ammollo in acqua e lasciamo riposare tutta la notte il giorno dopo adiacente alla canna scaviamo un buco circa 5 centimetri profondo mettiamo due tre fagioli e ricopriamo persiamo acqua abbondante ed aspettiamo circa 30 40 giorni che il seme germogli per donarci fagioli da raccogliere e conservare a piacimento questo è il metodo antico che usava il mio papà senza uso di diservanti perché non ce n'è bisogno il risultato è garantito iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato ciao